salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo appuntamento con project zomboid allora ho ricambiato nuovamente mappa visto che quella precedente era decisamente troppo difficile per noi presento nuovamente mi pare l'elicottero quello che avevamo sentito anche nell'altra nell'altra mappa e mi sono appunto spostato sperando insomma che sia magari meglio e ci permetta un po più tranquillamente tra virgolette di muoverci all'interno della della mappa stessa intanto volevo anche ringraziarvi dei consigli che mi date non abbiate paura tra virgolette di scrivere commenti anche critiche ovviamente purché siano costruttive insomma sono sempre bene accette e tenterò anche i suggerimenti che mi avete dato perché sono appunto molto curioso di vedere le varie differenze però per il momento basiamoci sul gioco normale vi ho detto ho cambiato mappa sperando appunto sia migliore quindi il nostro personaggio ovviamente picchietto insomma ci sta e allora bistecchiera la padella impugniamo subito in pugna primaria come arma di distruzione di massa ci può anche stare pomodori scatola ce li prendiamo pepe niente ci serve una pescatola che insomma non dovrebbe essere difficoltoso trovare perché in ogni casa dove siamo andati la prima cosa che abbiamo trovato era appunto una pescatola guarda a vedere se io qua sono già uscito fuori aspetta se qua non lo riusciamo a trovare antificio spazzolino pettina felpa col cappuccio scusate cucina per principianti potrebbe andarci bene ma se ce la prendiamo anche perché comunque abbiamo il talento della lettura veloce quindi non dovrebbe impiegarci più di tanto vediamo un po dove siamo allora sembrano tutte cassette ok qua c'è una bella recensione che non è affatto male anche laggiù sembra esserci comunque una recensione abbondante vediamo un po come la la situazione allora per quanto riguarda invece i zombie ovviamente ce ne sono afflotte anche qui qua sotto non so cosa sia sembra tipo un cantiere purtroppo non abbiamo trovato molto abbiamo trovato un portato di pomodoro di scatole ma purtroppo non avendoci l'apri scatole sarà un po' complicato beh signora se stia un attimo buona è tranquillo ok allora l'orologio digitale lo mettiamo così perlomeno vediamo che ore sono ok cerchiamo di avvicinarci quanto più possibile sembra eh cazzo qua i zombie ce ne stanno un bel po' sembra uno sfascia carrozza qualcosa del genere che non sarebbe manca affatto male come base ragazzi attenzione perché comunque sia chiudendo l'entrata qui e magari cercando di dare una ripulita a tutti gli zombie presenti siamo abbastanza parati in quanto comunque loro non vanno a scavalcare le recensioni e potrebbe essere comunque una buona zona abbiamo anche dei veicoli che magari con un po di fortuna sono anche funzionanti quindi vediamo un attimo di tanto di sistemare la zona qui per il momento si è accorta di noi soltanto questo zombie qua che è venuto da abbastanza lontano ecco ovviamente ora che ha fatto cacciara si è soccorti un po' tutti quanti e che vengono diciamo uno alla volta dovremmo poterli gestire senza problemi ok tu cazzarola voi mori che ha di dannazione ok medaglione canotta insomma niente di che ok perlomeno l'entrata ce la siamo liberata quanto è grosso sto coso mamma mia enorme è veramente bello grosso se effettivamente c'è soltanto questa entrata siamo veramente a cavallo allora sistemiamoci anche lui o lei ok andiamo qua al bagno sperando che non ci sia nessuno è chiuso ok qua se potrà entrare ok parte aperta perfetto chiudi vediamo se c'è qualcosa che possa interessarci perlomeno possiamo bere questo è ottimo questa diciamo è roba che volendo troppo non abbiamo gli strumenti ma volendo potremmo andare a disassemblare ma appunto non ci abbiamo niente per poterlo fare però potrebbe essere comunque una zona dove poterci eventualmente posare roba vediamo un po' per quanto riguarda qui la situazione qua ci sembra esserci un foro di proiettili più che altro questo si questo cazzo è uscito dà dannazione ha fatto il giro da qualche parte perché non so da dove è sbucato farincia era prima allora controlliamo dentro l'auto che possiamo entrarci ehm bene non abbiamo le chiavi quindi non possiamo sapere niente vediamo però il mezzo ai sedili niente una gomma e un rasoio poca roba dietro niente assolutamente niente beh di macchine sistemate bene ce ne sono insomma a prima di questo è il problema appunto sono le chiavi vediamo un po' questa ok guardiamo intanto nel bagagliaio mattina vuota non ci facciamo niente chiusa dannazione eeeh rompi finestrino posteriore eeeh non lo so arriva un po' di cacciara vabbè per il momento lasciamola così e fa arriva un bel po' di cacciara qua purtroppo ce ne stanno ma sono sono un chiuso il giornale fazzetto portafogli niente cioè si sono incastrate così con qualcosa di rotto scusate ok niente l'ambulanza qua è sfasciata quindi anche se queste due fossero funzionanti non possiamo farci niente continuiamo qui il perimetro mi sembra abbastanza vuoto quello sta addirittura uscendo le zombie ha deciso che era meglio così visto che ci siamo spostati cosa che c'è me ne vado perché insomma gli altri miei amici sono morti tutti meglio che me ne scappo via allora il furgoncino vediamo un po' magari ci sono le chiavi penna, tacquino, cuffie no ovviamente dietro vuoto vediamo quest'altre niente, 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 niente giornale, tacquino vuoto bender esibili ce le portiamo il fazzoletto possiamo anche lasciarlo lì e niente vediamo un po' qui peccato che ce ne sono insomma esteticamente sembrano a posto tacquino vuoto niente scarafaggio crudo magari no altro pick up da controllare pacchetto di plastica magari no penna portafogli antidepressivi che ce li prendiamo ok il problema è che ecco non avendoci le chiavi è un po' complicato ora cercare di capire e mettere in moto sinceramente perché insomma non penso ci sia il kit per insomma per scassarli e comunque metterli in moto uguali comunque ci manca mi pare questo furgoncino e quello là sopra bianco e l'abbiamo controllo di tutti purtroppo ecco nessuno di questi hanno le chiavi fazzoletto pettine sorviette con alcol aspetta quelle ce le prendiamo che possono tornarci utili per disinfettare qualcosa e qui vediamo l'ultima e niente è chiusa vediamo anche dietro magari batteria dell'auto eh batteria non era male però purtroppo questi qua aspetta che ah no l'ha niente non l'avevo visto dietro al furgoncino blu ma essendo incastrato non possiamo andarci allora tu che cosa vuoi ok ok allora la zona l'abbiamo liberata ripeto non sarebbe affatto male come come base una volta che magari si riesce a chiudere questo pezzo quindi comunque gironsoliamo perché ovviamente di cose dobbiamo andarle a recuperare magari qualche zombie di queste ci siano le chiavi per per una delle altre delle altre macchine a parte c'è anche un'altra recensione qui sulla testa anche se è una recensione in legno però potrebbe tornarci ugualmente comoda quella comunque la teniamo in considerazione perché appunto non è affatto male questa che c'è sulla schiena un cortello sembra sì ok magari possiamo utilizzarlo per come come arvo anche se comunque per il momento la vadella sta facendo il suo igreggio lavoro ok ah no è un cacciavite che comunque ce lo prendiamo perché non è non è male possiamo eventualmente utilizzarlo per disassemblare qualcosa vediamo se possiamo entrare qui dentro ok passa attraverso chiudi finestra ok ci manca un'apri scatole che di solito è la prima cosa che si trova a sto giro invece a quanto ripare che è l'ultima perché insomma non ci sta niente sacchetto ok niente niente assolutamente niente acqua di colonia fasciatura che ce la prendiamo e beviamo anche già che ci siamo qui anche qui comunque non è non è male sta zona abbastanza tranquilla cucina intermedia rivista il cacciatore e cucina per principianti ma ce l'abbiamo già quindi non ci serve qua non c'è niente l'altro è per uscire e niente tutta qui casa quindi anche qua veramente poca poca oh cazzo magari non è proprio il lato giusto per uscire quello ovviamente un bel gruppetto di zombie ok ok allora com'è la situazione qua ah là c'è una chiesetta c'è anche un bel gruppetto di zombie ok questo è il cimitero ok e si qui c'è un'altra casa vediamo di spostarci da quest'altra parte per controllare la zona quel gruppetto di zombie bisogna tenerlo un attimo d'occhio anche qua ci sono un po' di di gruppetti quello si sta spostando ma mi sembra tranquilla la cosa anche qua qua è decisamente più tranquilla sicuramente ripeto anche se effettivamente lui non fa scegliere un livello di difficoltà ma le varie mappe già vanno a a coprire i livelli di difficoltà differenti per quanto ma santo sei brutta frate quanto appunto erano era parese c'erano veramente troppi zombie e oddio magari non è il caso di buttarsi qua vabbè intanto chiudiamo quello dentro non ci hanno ancora sentito ok c'è una signora qui ok ok per il momento lasciamo quello dentro la porta anche se penso sia riuscito a uscire oh eccolo qua una priscatola che fortuna cazzo ok allora vediamo velocemente se c'è qualcos'altro e altrimenti ce ne andiamo perché comunque abbiamo un po' di fame mangia un po' tutte ste cioè un quarto di patatine una bibita e niente damasene che qua stanno iniziando ad essere un po' troppi qui c'è per principianti esaltoria per principianti e niente quello è un mutante non ho capito dove cavolo è uscito però comunque sia non è male anche questa attenzione ragazzi di casa non è male piccolina quindi facile da da sistemare vediamo un po' sta no mi ci fa entrare dannazione ma ecco posso controllarlo dicevo piccolina magari se si riesce a barricare le varie finestre hai comunque la recensione intorno quindi non sembra affatto male purtroppo sta macchina non la possiamo controllare giusto dietro chiave inglese e fazzoletto chiave inglese ce la portiamo potrebbe essere considerata comunque un'arma ottimo non male non male questo piccolo quartiere decisamente periferico apri finestra dai da che si apre è vero grandi passa attraversa chiudi finestra chiudi dente ok perfetto ottimo così finiamo siete magnaste palatine così perlomeno stiamo bene anche di stomaco e facciamo un giro chiudiamo le tende anche qui perfetto chiudi tende anche qua ok ma già ci hanno sentito dannazioni dannazioni e direi di sì direi proprio di sì perché insomma perché cazzo sta entrando nella porta no però da qualche parte stanno entrando perché si sente insomma che stanno sbattendo quindi anche qua purtroppo non è una zona tranquilla peccato perché non era male quindi vediamo velocemente se c'è qualcosa che ci può interessare accendino cermifero pacchiose entrati non so dove ma sono entrati di stecchiera e niente qua forse no calzini e maglietta anzi facciamoci del ehm degli stracci perché non li abbiamo ok eccolo qua dove cazzo era ehi pure quest'altro non ha spaccato attenzione qua ok ok niente che ci possa interessare allora ragazzi io direi che ci possiamo anche salutare qui in questo momento e ci sta una luce magari sì ok la zona comunque non sembra male ci sono già alcuni punti che possiamo eventualmente tenere come base anche se siamo ancora all'inizio e magari dovremo poi muoverci moltissimo per andare a recuperare qualcosina però comunque vedremo abbiamo già appunto alcune opzioni io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo e vi invito se vi fa piacere lasciarmi un mi piace un commentino a iscrivervi al canale se non l'avete fatto in descrizione trovate il link a tutti i social network che in alto a destra la i che vi riporta alla lista del titolo in caso in cui vi avrete esaltato qualche appuntamento di nuovo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao